Ben trovati da Trip TV, siamo oggi al venerdì 1 febbraio 2019, quindi è scaduto il termine che si era autodato l'assessore Ceccarelli per fare iniziare i lavori a via Giordano Bruno via Cesare Battisti. Quindi il naso lungo, peggio di Pinocchio, l'assessore ha dimostrato di averlo, così come dimostra puntualmente in tutte le cose anche che sta facendo. Quindi ricordiamo, ha promesso davanti a Striscia la Notizia che iniziamo i lavori entro gennaio, oggi è 1 febbraio, non se ne vede neanche l'ombra. La città aumentano le buche, ma quelle belle profonde, di cui poi vi mostreremo le foto e anche chi c'è cascato dentro, e quindi questo però lo faremo lunedì. E che altro c'è? I lavori che stanno facendo l'ingresso nord e l'ingresso sud di Civitavecchia, che fatti con la pioggia ovviamente dice che ci saranno le garanzie, saremo garantiti negli anni. Il problema, assessore, è che non siamo garantiti noi, perché lei ci ha un mandato al massimo fino a tutto giugno, quando si insiederà il nuovo governo. E io le consiglio vivamente, visto le figuracce che sta facendo e che ha fatto tutti, di dimettersi. La cosa più tranquilla che potrebbe fare, essendo un uomo, è quello che non mantenendo le parole che ha dato, di andarsene. Sta praticamente prendendo a Uffo 1.600 euro netti da assessore, la paga da assessore che sono 2.300 lordi, senza combinare un tubo. Perché per adesso solo fanfuglie, solo promesse, quindi nulla di quello che ha detto viene fatto. Qualunque cosa. Lei se vuole venire qua può venire e dire la sua, senza problemi, dimostrandoci cosa ci ha fatto. Tra parentesi, l'ingresso nord e sud, la riqualificazione, mi sembra, non ne sono sicuro, per cui uso il condizionale, che erano delle cose già in essere dalle precedenti amministrazioni. Quindi che i grillini ogni volta, a qualunque livello, nazionale o cittadino o regionale, dicono che è colpa degli altri, adesso dico che gli altri, forse, affronteremo il problema la settimana prossima, avevano già fatto e stanziato terminiati lavori. Poi i lavori fatti con la pioggia che saltano, lavori che ha sbagliato, l'assessore dice, se ci fosse il problema della pioggia per la settimana sfatti in alcune parti della città, non si farebbero. Ci sono stati dei problemi, ammette Ceccarelli su un laurel, a poco dopo l'incrocio per San Gordiano. Ma è stato immediatamente segnalato e la ditta ha parlato di un problema dovuto al cambio turno. Cioè, stiamo alla paranoia. I lavori fatti in città, dove è passata la Telecom, quindi che manco li paga al comune né progettati, hanno lasciato dei pezzettini senza farlo, ma perché non c'è nessuno che controlla. Se volete farvi due risate, in via Traiana hanno fatto le righe gialle, quelle per i parcheggi, diciamo, non abili, oppure per i parcheggi per il deposito merce. Se l'hanno fatta per un pezzo, chi l'ha fatto? Se sono fatti da soli, che mi sorge il dubbio, o è intervenuto qualcuno del comune. Perché non ha finito di fare la strada? Ci sono due parcheggi per handicap non segnalati sul nuovo asfalto. L'asfalto non è fatto a schiera d'asino, quindi quando piove, e in questi giorni è spesso, si allaga tutta l'altra parte in marciapiedi. I marciapiedi sono stati lasciati perdere, è stato passato all'asfalto solo al centro. Cioè, ma questa è paranoia. Cioè, fate le cose a pene di segugio. E lì, c'è via Traiana al centro, chi viene la può vedere, se se lo osserva tutta la parte finale, ma che è stata fatta. Le buche sulle strisce. Io metterei volentieri l'assessore, il sindaco, su una sedia a rotelle e fargli attraversare Civitavecchia su quel mezzo, che per loro può essere un optional. Per tanti altri, invece, è una necessità camminare su una sedia a rotelle. Una mamma che spinge il bambino. Guardate se ci riuscite. Fate la prova. Perché è ridicolo, lo stiamo dicendo da ottobre dell'anno scorso, che è una cosa ridicola. E continua a fare proclami beceri, stupidi, puerili, che non hanno senso, perché non è capace di rispettare. È manco quello che dice lui. Che i lavori iniziavano a fine gennaio. L'ha detto lei, assessore. Poteva dire marzo, aprile. Sicuramente doveva dire entro maggio, perché poi ci sono le elezioni. Però ha detto gennaio. Gennaio è finito. Dove stanno i lavori? Io ci sono passato adesso. Non c'è segno di nessuno. Ho chiesto a chi sta lì come esercizio pubblico. Non si è visto nessuno. E quindi? Bugiardo, veggio di Pinocchio. E quindi la cosa migliore sarebbe che lei, approfittando del fine settimana, approfittando del maltempo, si metta a casa, scrive una letterina e dice, mi dimetto, perché noi continueremo a attaccarla, finché non lo farà. È una cosa, è una vergogna. Lei è stato capace solo di ridere, di sorridere quando chi lo intervistava gli diceva le cose che non funzionano, perché già c'erano stati e non era stato fatto niente. Che ha fatto adesso? Nullo. E quindi? Vai a casa, assessore, vai a casa. Almeno risparmiamo 2.500 euro, che pezzetta alla volta, forse riusciamo almeno a pulire un po' di più la città. Per cose che non si fanno, ce lo segnala la consigliera regionale del PD, Marietta Tidei, ma noi lo stiamo segnalando da tempo, la raccolta differenziata, disorganizzazione enorme e diffusa, dice la parlamentare. Era davvero ora, ha spiegato la Tidei, ma dietro i programmi del primo cittadino si nasconde una disorganizzazione enorme, nonostante siano quasi 5 anni che si annuncia questo provvedimento, che è solo per la zona 1, intendiamo non per tutta Civitavecchia, la zona 1 sarebbe il centro. Quindi tutto quello che succede al di sopra della mediana possono pure morire, quartieri periferici possono pure morire, differenziata non se ne parla. Quindi sapete che cosa succederà se parte solo in una parte della città? Che chi non vuole differenziare, prende il sacchetto e lo va a buttare nell'altro quartiere, perché è già successo, non sarebbe una cattiva abitudine, non sarebbe solo di Civitavecchia, è successo in tutte le parti. È più facile buttare da un'altra parte piuttosto che rispettare le regole. Ancora stanno distribuendo e capire come funziona. Poi chi guarderà tutta questa nutrita serie di secchietti che girano per strada considerando la delinquenza, io la chiamo così, e i vandali che girano per Civitavecchia, che rompono tutto, anche quello che è molto solito e attaccato a terra. Questi secchietti che fine faranno? E soprattutto se il secchietto del signor X non si trova più e poi lo si trova da un'altra parte, la colpa è del signor X o di chi non ha guardato o di chi ce l'ha lasciato. Spiegatecelo, perché il 28 febbraio secondo voi dovrebbe partire tutto e mancano 27 giorni. Quindi pensateci bene, dateci dei notizie. Andiamo di corsa perché oggi c'è anche lo sport con Giovanni Pimpinelli, quindi la Madonnina c'è il pellegrinaggio che fa domani il 24 anniversario della lacrimazione delle statuine della Vergine di proprietà della famiglia Gregori, costudita nella chiesa di Sant'Agostino. Fiaccolata a piedi con il raduno fissato alle 20 e 15 che parte dal largo Monsignor Dario. Quindi ricordatevi che domani c'è anche la processione che parte andando verso Pantano. Poi il magistrato dice, cioè il ministro Bonafede dice, inaccettabile la parola del magistrato. Il ministro condanna la frase del Presidente della Corte d'Assese d'Appello di Roma, se volete farvi un giro a Perugia ditelo. Ricordo per chi non è ben informato a Perugia c'è chi giudica i magistrati di quello che fanno a Roma, quindi la Corte dei Conti. Io, caro ministro, direi, ma sollevate dall'incarico questi giudici, perché la sentenza è una cosa talmente ridicola che lascia il tempo che trova. È vero che per l'omicidio colposo il massimo dà la pena su cinque anni, ma è vero pure per come sono andati i fatti. Lì l'incaminazione non è per l'omicidio colposo, l'incaminazione è per aver lasciato morire senza aiuti il ragazzo, per ore. Disatteso il discorso del soccorso, disatteso cambiata la, chiamando il 118 per dire che cosa è successo, hanno detto altre cose, ci sono le registrazioni, per cui di che vogliamo fare? Io lo direi una volta, il ministro Salvini che ha detto di non rintegrare il ciontoli, che ricordiamo è un maresciallo della Marina, quindi non rintregarlo al lavoro, per precauzione, perché ovviamente il suo comportamento lascia molto a vedere. È chiaro che se la Corte d'Appello ha dato il giudizio sull'omicidio colposo, ha dato il massimo della pena, il problema è che non è omicidio colposo, c'è omicidio colposo e tutto il resto, ma viene prima il resto. Poi un'altra cosa che chiedo all'amatissimo sindaco Antonio Cozzolino e tutta la sua giunta, De Angelis, Giampiero De Angelis, che dice, che è un ex assessore della giunta Buscherini all'epoca, si domanda, ma dove sono finiti i 4 milioni di Enel per l'osservatorio ambientale? Perché non c'è più traccia di questi soldi? Nel 2014 questi capitoli, nella ricognizione straordinaria dei residui attivi fatta dalla giunta 5 Stelle, sono stati stornati, ancora capite che su un pezzo di carta passare la penna o dal computer, levare la voce 4 milioni è facilissimo. Il problema di questi soldi non si sanna se sono stati accantonati o meno, fatto salvo che le spese per l'osservatorio ambientale che sono state lì fino al 2003, fino al 2014, oggi non ci sono più, sono spariti e sono stati portati ad avanzo economico, cioè sono stati cancellati. Lo dice Giampiero De Ange che di lavoro fa commercialista e revisore dei conti, quindi a parte il suo trascorso politico e la sua nuova discesa in campo con la lista civica da lui capeggiate, adesso spiegateci questi 4 milioni, ecco per il bilancio e la pelle di Apollo, dalla parte si mettono, dalla parte si elevano, sono spariti, non ci stanno più, l'osservatorio non funziona, non c'è più, quindi non ci stanno manco i soldi e tutto finisce così a Civitavecchia. Però sono 4 milioni di euro, qualcuno ci spieghi, la Corte degli Onesti ci spieghi che fine hanno fatto questi 4 milioni di euro, se ci sono stati, dove erano, se non c'erano, se è bugiarzo De Angelis, perché? Date delle risposte, stando al governo dovete dare delle risposte. Detto questo, adesso lo sport con Giovanni Pimpinelli, appuntamento a lunedì per questo febbraio che inizia in maniera uggiosa e che porterà a nuove, tante novità anche dal punto di vista politico e tutto quanto. E' ben trovata nuovamente la pagina sportiva del venerdì con le consulate scelte riguardo gli impegni che ci saranno nel fine settimana sportivo Civitavecchiese, quello più importante è quello di domenica 24.30 quando il CIEC ospiterà alla Cavasci di Aluniere l'Almas che ha superato nello scorso turno di campionato, una gara fondamentale, quasi decisiva per le sorti dell'11 diretto da Marco Scorsini che se non dovesse trovare l'appuntamento con la vittoria che manca ormai da quattro mesi, si complicherebbe di molto la missione salvezza della squadra nella Zucca. La seconda scelta è ancora del calcio perché ci sarà l'impegno casalino del Cesare Socca che ospiterà domenica alle 11 al Cagliardini in Leppianguitori, obiettivo di scatto dopo la sconfitta contro Lupe Devere e serve a distanziare una delle dirette concorrenti per la salvezza in attesa del derby importantissimo di domenica prossima contro la compagnia portuale. L'ultimo impegno è quello della Palanuoto perché torna a giocare in casa all'Enel SNC che in Serie 2 sarà di scena alla Palagalli di sabato, domani quindi ore 15 contro il Brescia Waterpol, un impegno da vincere per la squadra di Marco Pagliardini che si trova al terzo ultimo posto della classifica e il Brescia invece sotto, ultimo con tre punti, per cui serve vincere e anche convincere dopo le tre sconfitte arrivate nel 2019. Per cui questi sono i rispuntamenti più importanti, grazie mille per l'attenzione, ci vediamo lunedì con tutti i risultati e tutti i responsi del weekend sportivo.